Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo video pratico vi parlo appunto di un trick per gestire meglio il riverbero. Allora, ho preso come riferimento questo brano di La Salle delle Sede di Raffaele Gerardi e praticamente vediamo uno spezzone di strofa e uno di ritornello. Vuoto e ci penso, se è giusto stare insieme io mi chiedo se ha senso, che qua abbiamo la strofa, se ha senso, sentire, ritornello. Allora, l'esempio più lampante che vi avevo fatto era quello di automatizzare i pan del riverbero. Adesso sul ritornello vediamo che il ritorno appunto del riverbero è totalmente messo in mono. Sentiamo come lavora. Mi piace quello che rivela e mi piace perché mi porta a vedere le sere e le sere. Mi riempi sto bicchiere, gira vuoto e ci penso. Ok, abbiamo il focus al centro, la voce al centro. Il tricchettino era quello di, sul ritornello, di aprire totalmente i pan in modo di avere un effetto wow e avere comunque un aiuto, come dire, sull'immagine stereo, di allargare l'immagine stereo. In più, una cosa che vi aggiungo adesso e che io faccio comunque spesso, è quello di aggiungere, adesso qua abbiamo un riverbero lungo, in più faccio aprire sul ritornello una room molto corta. La vado a creare, quindi vado a fare un 0.6, quindi una room molto 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 corta. Bypasso, vado ad attivare l'automazione e questa room si aprirà solo ed esclusivamente quando arriva il ritornello. Andiamo ad automatizzarlo. E qui avremo, aiuterà ulteriormente la voce ad allargarsi, ci aiuterà appunto ad ottenere il nostro effetto wow. Wow. Eccolo qua. Ok. Ho automatizzato la room, che si accenderà solo sui ritornello, e in più automatizzerò i pan. Cosa faccio? A me piace che leggermente il pan non si apre di botto, ma si apre leggermente, quindi lo faccio a mano col touch. La voglio più spesso, non è solo sesso sentire. E automatizzo anche l'altro. La voglio più spesso, non è solo sesso sentire. Ok, adesso vado sul pan left, pan right, e lo faccio, ovviamente avendo fatto solo l'apertura, devo far sì che poi dopo il suo ritornello rimanga totalmente aperto, sia left che right. Ok, right, facciamo la stessa cosa sul left. Ovviamente dobbiamo lasciarlo aperto. Vediamo cosa accade. Mi porta a vedere le sere, le sere, mi riempi sto bicchiere, giro a vuoto e ci penso, se è giusto stare insieme io mi chiedo se ha senso, non cerco un pretesto, la voglio più spesso, non è solo sesso sentire. Sentite come respira il ritornello, faccio velocemente dalla strofa. Mi porta a vedere le sere, le sere, andiamo al ritornello. Questo avviene in modo graduale, vedete, questa è stata la mia automazione che ho fatto sul pan per far aprire gradualmente sia left che right. Niente, un tricchettino che può esservi utile quando volete giocare appunto fra strofa e ritornello. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.